Datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo. Questo punto di appoggio è la croce. Non ce ne possono essere altri. Bisogna che esso si trovi all'intersezione del mondo e di ciò che non è il mondo. La croce è questa intersezione. Simone Weil, L'ombra e la grazia. Le parole della fede. Una produzione Radio Più Roma.